Prima di cominciare leggo un biglietto di un sacerdote che dice lei insiste molto sulla preghiera davanti al Santissimo, dopo la riforma liturgica il Santissimo è stato messo da parte, niente affatto. Questo è eresia, eresia questa. Tutta l'attenzione alla messa celebrata in allegria, anche questo semi-eresia, celebrata in verità, la messa in verità, come stiamo celebrandolo noi, in verità, fedeltà scrupolosa alle norme liturgiche e puntare diritto alla conversione del cuore. Questa è la messa nuova del Concilio Vaticano II. Allora dice, e allora la sua faccenda dell'adorazione, una faccenda ormai superata, una forma di spiritualità valida anche oggi, mamma mia se è valida oggi. Credo che l'adorazione eucaristica sia la cosa più straordinaria oggi, ma vissuta come l'ho spiegato, cioè la messa che si irradia, che è una realtà così straordinaria, che ha bisogno di irradiamento, un grande irradiamento. Allora abbiamo bisogno dell'adorazione perché non ci basta mezz'ora, un'ora, due ore, non ci basta. Abbiamo bisogno dell'adorazione per questo. Capita così l'adorazione? Ma anche i protestanti l'accettano. Una volta l'ho spiegata così a Tesea, ai monaci di Tesea, e mi hanno detto, ecco, così noi potremmo accettare l'adorazione eucaristica. I protestanti. E poi se è valida oggi, ma scusatemi, ho risposto stamattina, se la preghiera del cuore serve da terapia ai drogati, noi siamo in una spiritualità ultramodernissima. Non contatemi storie. La faccenda è questa, che l'adorazione costa, l'adorazione è sacrificio, l'adorazione è rinnegamento di te. Devi stare zitto, perché lui ha da parlare. E cosa hai da dire? Quando hai solo da sentire e ubbidire. Siamo nell'ultramodernismo. Non parliamo così, se non lo esiste comunque. Padre, non sono parroco, e nel mio paese la chiesa è aperta un quarto d'ora la mattina e un quarto d'ora la sera per le messe del parroco. Ma che disgraziato quel parroco. E che disgraziati i parrochiani. Passo fare la mia ora di adorazione in casa, portandomi col pensiero in chiesa, o adorandolo in me, presente, anche se sono peccatore. Per forza, ma per forza. Fai come puoi, ma prega solo, e prega per la conversione del tuo parroco. E poi con buontà e con umiltà, convertilo. Perché se non si converte, quasi sempre perché tu non lo avvicini con umiltà, ma se lo avvicini con umiltà e gli dici ma senti, sono un povero operaio, avrei bisogno di andare un po' in chiesa, me la lasci la chiesa aperta, te la chiudo e la apro. Ma immaginate se un parroco dice di no. Io direi che se lo avvicinate con umiltà, il vostro parroco lo convertite. E allora fatelo con umiltà. Ma si capisce che se non avete l'eucaristia dovete aggiustarvi. E non basta la presenza dello Spirito in noi per adorare? Io penso che di sì. Oppure aprite la Bibbia, davanti alla Bibbia c'è una presenza nella Bibbia, l'ha detto il Concilio, una vera presenza, simile alla presenza eucaristica. Allora avanti, davanti alla parola di Dio, fate l'adorazione, se no mettete un'icona. Davanti. Trovo grande impedimento all'orazione nella televisione che soprattutto alla sera mi ruba troppo tempo. D'altra parte c'è bisogno di relax, di aggiornamento, eccetera. Come si comporta lei con la TV? L'ho messa sul solaio. Nella nostra comunità non è tollerata la TV. C'è un incaricato che legge il giornale e dice le notizie e basta. Non c'è la TV. La TV è una vergogna delle comunità religiose. Tante religiose perdono un tempo straordinario. Me ne racconto una che mi ha ferito proprio nel cuore. Un santo sacerdote che mi dice sono stato invitato in una comunità religiosa. Arrivato là mi hanno detto che bisognava rispettare i loro orari. E allora hanno detto si capisce che rispetto i vostri orari. E poi hanno detto alla sera per esempio noi non facciamo cena. Noi facciamo picnic all'americana perché non dobbiamo perdere le trasmissioni della sera. Mangiamo davanti alla televisione e perciò non abbiamo tempo la sera a fare altro. Ecco, quando una comunità religiosa arriva lì c'è solo da metterci la bomba sotto. La televisione rovina fa dei disastri nelle comunità religiose e voi con umiltà dovete fare la rivoluzione. Fare la rivoluzione. Ma ricordatevi bene fatela bene la rivoluzione e fatela in certi ambienti in nome della cultura. Lì drizzano subito le orecchie. Sì, in nome della cultura. Ma spegniamo il televisore perché ci impedisce la cultura. Io ho bisogno di spazio per leggere. Io ho bisogno di spazio per riflettere. Io ho bisogno di spazio per comunicare. Bisogna farla bene la battaglia. Ma fatela. perché la televisione in certe comunità religiosa è la presenza di Satana che porta via tutto. Se non sbaglio la grande Santa Teresa consigliava di trovare nella preghiera una posizione comoda per non spendere l'attenzione e a lottare contro il corpo. Non le pare valido questo principio? Vorrei la citazione perché io conosco di Santa Teresa questo detto preghiera e vita comoda non vanno d'accordo. Preghiera e vita comoda non vanno a braccetto. Se voi volete cominciare una vita seria di preghiera dovete dire addio alla vita comoda perché a un certo momento lo Spirito vi dirà Giovanotto salta giù alle 5, alle 4 non hai tempo salti giù presto ti fai la tua preghiera poi sei pronto per il lavoro. Io ho degli operai che saltano giù alle 4 per farsi l'adorazione perché hanno il treno alle 5 e mezza e lavorano 8 ore al giorno e arrivano a casa pieni di fastidi e non avendo il tempo nella giornata fanno un orario così ed è ora che noi preti ci svegliamo e ricordatevi bene che se volete portare la preghiera nelle vostre parrocchie la preghiera non si insegna a parole la preghiera la preghiera si insegna con la vita è nel pastore che devono leggere che cos'è la preghiera come si prega e che cosa fa la preghiera voi dovete partire pagando sulla vostra pelle la scuola di preghiera e allora se diventate uomini di preghiera state tranquilli che fate nascere le scuole di preghiera come conciliare l'intensità della preghiera con le scelte che comporta e la passione per i libri la lettura la cultura la bellezza della natura dell'arte delle creature l'amicizia con i fratelli e le sorelle il desiderio dell'azione e della realizzazione di progetti buoni frutto di sensibilità acquisite nello studio e nei contatti in questo modo però il cuore e la mente si riempiono di tante cose e la preghiera diventa più difficile come fare? io ritengo che un uomo di preghiera diventa una persona equilibrata perché quando Dio entra come centro della tua esistenza per forza ti mette a tacere tutte le cose sbagliate ti svela tutti i grovigli ti mette ordine in tutto un prete mi ha chiesto quali sono i frutti della preghiera per capire se la mia preghiera è valida o no io rispondo normalmente così nella mia esperienza oramai sono 40 anni di scuola di preghiera con i giovani quindi qualche cosa ho imparato ho imparato questo che il test del progresso nella preghiera è questo se tu preghi cambia la tua carità prima di tutto tu ti accorgi che hai dei doveri gravissimi verso le persone a cominciare dalle persone di casa tua e ti svegli se c'è qualche schiavo in casa tua e mi è già successo di ragazzi che mi dicono io ho scoperto adesso che in casa avevo uno schiavo e una schiava era mio padre e mia madre e ho cominciato a vergognarmene il primo effetto della preghiera è aprirti gli occhi sulla carità il secondo effetto della preghiera aprirti gli occhi sui doveri tu non puoi più scherzare coi tuoi doveri perché l'istante che li tradisci salta su la luce rossa e ti impedisce e ti ferma il Signore ti prende per mano e ti blocca è un buon segno è un segno che uno progredisce veramente nella preghiera è ben camminato poi terzo segno il distacco dal male quando cresce la preghiera cresce la nausea del male cresce la nausea della sensualità cresce lo schifo delle cose del mondo che degradano e uno sente che deve marciare sul pulito ecco questi sono i segni secondo me gli effetti più vistosi della preghiera in sostanza la preghiera ti mette ordine perché perché Dio dove entra mette ordine e questa è la battaglia che dovete fare con i giovani e fate ben attenzione guai se voi vedete il giovane che va a braccetto col peccato e mette la preghiera perché allora si ingroviglia talmente nel male che non esce più guai se dentro di voi c'è l'abitudine al peccato e voi flirtate ancora col Signore è una vergogna il Signore vi fa schifo ha schifo di voi e voi dovete uscire dal peccato guai andare a braccetto peccato e vita spirituale e illusione di vita spirituale perché allora state giocando e state giocando sul sacro siete sull'orlo del precipizio e aprite gli occhi ai giovani su questo punto perché i giovani devono essere devono sapere queste cose pregare mi fa paura sento che entrare nella preghiera del cuore state ben attenti a questo prete che mi ha scritto un biglietto che mi ha fatto proprio commuovere tanto è importante sento che entrare nella preghiera del cuore vuol dire soffrire togliere via la piaga che da tempo mi porto dietro e che ho sempre ben mascherato senza sradicarla mai ho una gran confusione in mente dovrei cominciare a cambiare troppe cose e ho paura che anche questa volta si risolva nel non cominciare non ho mai resistito a lungo davanti al Signore forse proprio perché non ero sincero sono prete da venti anni e dire che mi sono illuso di insegnare alla gente a pregare grazie Padre per le sferzate fa male ma guariscono mi aiuti lo ringrazio perché quando ci troviamo davanti a una persona sincera dobbiamo subito dire grazie allo Spirito Santo lo Spirito Santo ha già cominciato il suo capolavoro quando vi riconoscete peccatori siete già a posto vi incamminate già nella preghiera vorrei dire a sto prete che da vent'anni è sacerdote adesso il Signore ti ha chiamato qui a Collevalenza per aprirti gli occhi su una preghiera nuova e devi cominciare e ricordati di insegnare tutto ciò che vivi perché quello che vivi se lo insegni dopo lo vivi di più con più profondità quindi insegna a quanti puoi la preghiera del cuore tu la imparerai con maggiore profondità e tu farai un bene immenso e non scoraggiarti delle difficoltà perché se è una cosa bella la preghiera del cuore vi deve costare se no è un rottame oggi la preghiera del cuore è stata dura e mi chiedo è proprio necessario questo tipo di preghiera alla fine ho avuto la sensazione del vuoto di aver perso un'ora e mezza che avrei potuto dedicare alla parola di Dio o al rosario che risultati si possono conseguire se tutto il tempo è dedicato a cacciare le distrazioni a sopportare la fatica dalle posizioni del corpo ecco ringrazio anche di questo biglietto perché puntualizza una cosa importante la preghiera del cuore costa 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 ma non illudetevi di trovare la ricchezza della preghiera del cuore in un amen voi vedrete gli effetti della preghiera del cuore quando l'avrete praticata lungamente io vi dico già subito una cosa io non sono profeta né figlio di profeti ma vi dico che se voi siete costanti dopo Colle Valenza per un mese alla preghiera del cuore la vostra vita cambierà radicalmente soprattutto dentro la vostra vita entrerà una serenità nuova perché sarà il Signore che entra il Signore che vi comanda il Signore che vi ispira il Signore che vi consola il Signore che vi rafforza il Signore che vi corregge la vostra vita voi sentirete i cambiamenti che si effettueranno nella vostra vita ma dovete avere pazienza almeno provare un mese se no è inutile la preghiera del cuore è troppo difficile e trick track non capite neppure dopo una settimana capite capite l'utilità ma dopo un mese voi capirete l'utilità e non la lascerete più sono sicuro che succederà questo e sono sicuro perché ho visto in tanti sacerdoti e ringrazio anche tanti sacerdoti che mi hanno detto che mi hanno ringraziato perché il Signore ha proprio parlato al loro cuore attraverso la preghiera presentata così adesso passo all'argomento importante la prima preparazione al sacramento alla festa del perdono chiamiamola così non parliamo ancora di sacramento del perdono ma festa del perdono è più bello quando i salesiani hanno fatto i dischi le cassette sul sacramento del perdono io ho chiesto che mettessero questo titolo il sacramento del perdono gioia di Dio e gioia dell'uomo perché mi sembra che è questo che è mancato nella catechesi normalmente noi sacerdoti abbiamo la colpa di non avere presentato a sufficienza il sacramento della riconciliazione come il sacramento della gioia e questo è una cosa orribile orribile noi abbiamo profanato un aspetto importantissimo del sacramento il sacramento della riconciliazione è una gioia che esplode e se voi non fate esperienza di gioia probabilmente è perché non vi siete preparati bene e non vi avvicinate bene con la mentalità giusta al sacramento e vedrete se mi ascolterete di prepararvi bene al sacramento ecco io vorrei che nel cuore faceste questa preghiera signore io ti chiedo che in questo deserto Dio faccia io riceva il sacramento come non l'ho mai ricevuto nella mia vita siate ambiziosi nel chiedere al Signore e il Signore vi porterà lì vi farà sperimentare il sacramento come la gioia più grande e così guarirete anche dal male che abbiamo noi sacerdoti di non presentare abbastanza il sacramento come sacramento della gioia il tema il tema di oggi è questo sette verità di Gesù sopra il peccato sette verità di Gesù sopra il peccato primo Gesù insegna che il peccato è una realtà che devasta tutti chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra questa è una dichiarazione solenne di Gesù che il peccato devasta tutti davanti a lui nessuno può posare d'angelo e come l'hanno capito bene gli intimi di Gesù Giovanni prima di Giovanni 1.8 se diciamo che siamo senza peccato siamo bugiardi se diciamo che siamo senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi se riconosciamo i nostri peccati egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa se diciamo che non abbiamo peccato facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi e Paolo prima di Timoteo 1.15 Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori e di questi il primo sono io tutti siamo peccatori tutti siamo Gesù non sopporta l'angelismo seconda verità sul peccato Gesù insegna che dal peccato si esce il primo annuncio di Cristo Marco 1.15 convertitevi e credete al Vangelo dunque l'ha in mano l'uomo il peccato lui può uscire convertitevi questa è la condizione per incontrare me Giovanni 8.2 va non peccare più quindi è segno che tu lo comandi il peccato al paralitico sei guarito non peccare più quindi lo comandi il peccato Gesù insegna ufficialmente solennemente che dal peccato si esce terzo Gesù è venuto per questo facilitare all'uomo il superamento del peccato Giovanni 10.10 sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza Matteo 9.13 non sono venuto per chiamare i giusti ma per i peccatori come è commovente questo non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati e lui è venuto per loro Giovanni 5.24 chi crede in me è passato dalla morte alla vita Giovanni 3.17 Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui lui è venuto per questo strapparci dal male e lo dobbiamo proclamare prima di tutto a noi stessi e a tutti la battuta ai farisei voi non volete venire a me per avere la vita quarto Gesù chiede radicalità contro il peccato e questo lo dobbiamo sapere lo dobbiamo annunciare con grande coraggio Matteo 18 se la tua mano ti scandalizza tagliala cioè sradica il peccato togli l'occasione sei obbligato a essere radicale e se il tuo occhio ti scandalizza cavolo Gesù è radicale e insegna la radicalità contro il peccato quinto Gesù indica il cuore come il luogo del peccato per questo abbiamo tanto bisogno della preghiera del cuore Gesù indica il cuore come il luogo del peccato è una verità che mi ha profondamente colpito nel mio ultimo deserto dei 40 giorni io ho la gioia tutti gli anni di accompagnare un gruppo dei nostri che vanno sulla montagna e fanno 40 giorni di deserto in genere sono fratelli sorelle che arrivano dalle missioni o che partono o che hanno finito il periodo di formazione fanno i 40 giorni di deserto e io ogni anno li accompagno quindi ogni anno ho la gioia ho già fatto 27 esperienze di 40 giorni di deserto ho cominciato nel Sahara dove ho vissuto padre de Foucault e ho finito sulle nostre montagne della Francia dove ci sono dei posti bellissimi per fare i 40 giorni dunque mi accorgo di questo ogni volta che faccio i 40 giorni il Signore mi fulmina su qualche cosa di speciale quest'anno è su questa cosa che sono stato illuminato che il luogo del peccato è il cuore io non l'avevo mai capito con profondità per esempio mi arrabbio per esempio se sono violento io subito ecco se ho da confessarmi confesso la violenza confesso la rabbiatura ma giovanotto ma il peccato è oltre è il tuo cuore non le parole che sono uscite dalla tua bocca il peccato è il tuo cuore il peccato è il tuo cuore è il tuo cuore è il tuo cuore è il tuo cuore